la facciamo subito dai che ci togliamo il pensiero cercavi progressi e miglioramenti direi che dopo un primo quarto in cui il bottegone è stato coriaccio credo che tu abbia trovato gli spunti positivi che cercavi sì sì stasera devo dire che abbiamo giocato abbiamo giocato in crescendo e abbiamo giocato una partita con personalità che era quello che cercavamo perché insomma la famosa storia del freno a mano tirato che avevo detto stasera abbiamo un pochettino più avuto intraprendenza certe situazioni soprattutto nel secondo tempo però anche nel secondo quarto qualcosa di più e poi in difesa siamo mano a mano cresciuti siamo riusciti a tamponare quelli che erano nei punti di forza soprattutto Toppo e Laudoni che nel primo tempo ci avevano creato una carta capo uno insieme a Canestro soprattutto in inizio della partita tra l'altro l'altro verso la fine del secondo quarto li abbiamo ben contenuti quindi poi dopo quando prendo 58 punti sarà più facile riuscire a provare Prova difensiva molto convincente da lì si parte per il controvedere primario in cui devo dire che con Vicco e tutti gli altri siamo veramente molto forti forse qualche margine bisogna lavorare ancora un po' sulla difesa schierata probabilmente l'attacco alla zona sì l'attacco alla difesa schierata può migliorare anche se stasera non è vero in certi momenti quando potremmo chiuderla abbiamo sbagliato un paio di rigori da sotto abbastanza così rivedibili però abbastanza bene io credo che abbiamo ancora ovviamente tantissimo margine di crescita però in questo momento abbiamo la personalità del gruppo che si sta formando ricordiamo che ancora stasera abbiamo voluto tenere Rombaldoni in naftalina che per questo gruppo comunque è una bella dizione dal punto di vista di personalità stasera hanno giocato 5 minuti per riassaporare il campo ma non volevamo ancora rischiare e prendersi un'altra settimana per uscire definitivamente dai dubbi su quello che potrebbe essere un problema eventuale sull'impiego al 100%